E' iniziato uno scontro, sei il prossimo. Vinci questo scontro e torni in prima linea. Perdi e per te è finita. Guadagnati il rientro. Vai tornando in prima linea, te lo sei guadagnato. Il compagno è in via libera per il rischieramento. Il compagno è iniziato. Il compagno è iniziato. Mitragliettrice leggera qui. Raggiungete il punto indicato e mettete in sicurezza l'area. Il compagno è iniziato. Venditore è iniziato. Venditore è iniziato. Vabbè, facciamo tutti i genitori. Il compagno è iniziato. Il compagno è iniziato. La parola è iniziato. La parola è iniziato. Il compagno è iniziato. Il compagno è iniziato. ooo 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 gaming che peggio E' un servoletto, vero E' un servoletto, vero Mi attacano! Vero, Nick Non solle, va ci sono! Vero, vero nemmico in bolo Ma non solle, vero Non puoi, ti, vero io! grazie a voi non vedete il avio d'armi? perché non si vedevi in un'altra parte? non vedete il avio? non vedete il avio? sullevano, sullevano non vedete il avio? sullevano si che vanno Occhio in alto Bidro 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 Occhio in alto Occhio in alto Occhio in alto Allo Jim Occhio in alto Occhio in alto grilli e di nigg questo è un grande il nostro saluto saluto Jimmy tra fra l'obiettivo aggiornato mette in sicurezza quella posizione давайте быстрé забегаем ребята controllo completato informazioni dattiche ottenute c'è ебучий город ma ci sono davvero che non si puo può farci pensare che abbiamo che abbiamo 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 quindi io prendo un'è 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 ne sai che che usci un'è non è questo un po' di prendere un po' di prendere tutti non tutti tutti sanno si sono un po' di prendere c'è già già поднимo c'è un soldi qui ci sono dei soldi no i fatti i niente a qui ti come quassar per triccio con il recupero brona questo non è non spettiamo un po' poi andiamo che si è un po' come avuto si ci si è un po' è una zona una zona è una zona è un po' lucello da ne chiede ne voglio ne non è vero che qui brano sirio spaccato a vero non mi non lo il po' nizzo ozda ne abcaddi prosto ball com perché tutto dopo qualche cosa non si deve dire per l'uomo si deve essere dentro di qualche tempo di qui ne vedi a ne vedi voi volete a noi abbiamo fatto la visione guardate 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 no è poco далеко età ebosham только те которые нам угрожают c'è l'impianto non troppi, non troppi, c'è l'impianto Pusquei vedi e vedi 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 e di domani io normali sì, normali, normali io chiedo, io chiedo, quando esi questi domi chiede Moroza, un'pottarco un'aclaymore! un'aclaymora! 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 yancturne un'aclaymora! eeele ah, hooo, che cosa avrei ho sento mettere un'aclaymora Siamo al 40C Gas in arrivo, alla nuova zona sicura Asciuta Asciuta Всi zona del mese bier, non è stato visto lì ma sia stato un sacco Siamo sul suizitu prendiamo con il cuore da che tu avessi luce l'albergo per favore ближе bisogna 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 segura stessa smarie a domi nimi chico e adesso e adesso e suda padegut metri metri ho avvi nemico il bolo in movimento Sì, guarda, guarda. Gas in movimento, nuova zona sicura individuata Miniom Rescue Fan Quoe Fan Tan Fargo Spirits Miniom L'evo uno è pronto Noi che c'è? Comeci a chi? Nogati, nonna cosa? Mi carai, l'argo un'errore i'eirestrike poi andiamo a Sirio nemmeno Poi andiamo, 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 andiamo a metà, andiamo a vero io ora in airstrack tu dove? sono andiamo chi stagge andiamo attacco agrappolo alleato in arrivo in movimento пойдем, пойдем, бежим, бежим, бежим я вот здесь, где можно патроном зарядить а, бля, 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 зона сикура репозиционата она всегда в круге да ладно серьезно здесь люди у нас в доме слеп я знаю да, не знаю осталось 16 человек, Серега, ты где там Никит, Никит, сядь там в углу в углу сядь не могу отрубать на пистоле в углу в углу Серега, ты в доме там, да в большом ага и чё броники нужны а на иди возьми у меня семь броников ребят, давайте у меня у меня у меня возьмите два броника возьмите в углу в углу в углу в углу не чё ребят No 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 no! Come called in ora ma oggi to savoir lo confetti al giro Come al destino Voi d'主 Dai, vaipo Va bene cosa lo왔i Si lovingi Siamo nella zona sicura, ok e i nemici Tieni, 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 tieni 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 B Tieni 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 ragazzi, tutto bene tutto bene non bisogna in casa ragazzi, non bisogna in casa non bisogna in casa zona sicura riposizionata ultima possibilità finita il lavoro non bisogna in casa non bisogna in casa ma in casa ma in casa non bisogna in casa imed 바� shouting questa si ora Sera i vedi, sera i vedi, sera i vedi i vedi i vedi. Il fuori, il fuori. Un attimo! Un attimo! Un attimo, un attimo! Sì, sono in giù. Succa, non sono nella corsa, b***h Ubiu'lo, b***h, b***h Ubiu', b***h Voi vedi, b***h B***h, come 5? Che? Che, 5 persone restano? Quindi vedi, b***h B***h, mi stiamo io lo soffro Guck! Guck! Ma di fronte Vieni dai! Vieni dai! Vi in CARE! Giustare! Vieni dai! Vieni! Vieni dai! Sì, che bella. Sì, bella. Mолодo il regione, pregi. Russi le persone, bella. Russi le persone, bella, sottono il mio d***o. Tutti tutti nel mondo, bella. ... ... ... ... ... ... ... ... ... io ho visto che l'ostravo zaheo non mi guarda non mi guarda a***** 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 ah